I knew that I would be mine when the wind is out all closed Like a picture of the time when the future is the hole you're looking for Save me from everything Vabbè ciao a tutti ragazzi, benvenuti a ricadeggi con le XSvapo Ciao a tutti ragazzi Sempre insieme a Stefanello Oggi proviamo, finalmente, un liquido della madonna preso la vapita lì Il Blackstar Natural Blues, nicotina 2, 1,5, 2 Gix and Vape, 60 ml, cioè 50 ml più 10 E quindi lo drippiamo su Gun24 col chubby su beach usante con DNA da 167 Watt Che cos'è questo liquido? Una droga È una droga Questo è il vero tiramisù Questo è il tiramisù ragazzi Questo è il tiramisù vero e proprio Vero e proprio Intanto già che ci siamo salutiamo anche quello che ce li ha venduti Che li fa A Londra Ricordiamo Blackstar è liquid E quindi lo andiamo a drippare Anzi prima sentiamo l'odore Io non sconco neanche Io non sconco eh Non schiaccio la bocetta Lo sente già da subito Guarda la mia faccia Famelo sentire Power Power No quello è un altro Quello è un altro che faremo la recessione prossimamente Allora ragazzi Cioè subito Allora il fatto Si sente Caffè Il corposo del caffè Che però non è solo caffè Perché la nota Dovrebbe coprire La nota di cuorosa E la crema No questo è Questo qua veramente Provatelo Io adesso condivido sto video qua A tutto il mondo In giro Perché questo qua Lo devono prendere tutti Altro che tu Parti due No questo qua è veramente Una cosa Atomica Veramente Siamo su una Aspetta che provo a mangiarmelo Mangia mangia Su una Mixed Twisted Coil Della Demon Killer Lo do Ragazzi Tra l'altro Tirami su Al pan di spagna Non con i pavigini Perché la nota Ok Del biscotto Quindi non è proprio il vero Il tiramisù No Però Il tiramisù Viene fatto in due modi In alcune regioni Viene fatto con i pavigini In alcune regioni Con i Savoyardi Con i Savoyardi In alcune regioni Con il proprio Il pan di spagna Ok E quindi Quindi Lo proviamo Su Goom24 Con una resistenza Come ho detto prima Mixed Twisted Coil Della Demon Killer Come ho detto prima È venuta da 0,24 E l'oltre Comunque è un twist up Cos'è un doppio Un triple twist up Dovrebbe essere due Dovrebbe essere due cavi Due Due twist up Due twist up E adesso qua La godura in assoluto E lo proviamo A 80 watt Tranquillo Mettiamo 90 watt Questo è atomico Basta Questo è veramente Il top Ci sei? Ci sei? Sbapa? Butta fuori Non te ne tollo tutto per te Butta fuori Non è uscito niente Non è uscito niente Se l'hai mangiato Ragazzi Vai di nuovo Vai di nuovo Vai di nuovo Vai 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 di nuovo In aspirazione Sentite La crema Caffè Caffè Che poi Mischiato con la crema Sembra più un cappuccino Bravo Bravissimo Non è proprio Bravo Caffè Marcano Sentite la nota liquorosa E poi Sulla lingua Vi rimane Il Proprio Il completamento Pano di spagna Crema Caffè Licuore E se andiamo a cercarlo C'è anche la polverina Del cacao E se proprio Doviamo mettere i puntini Sulle i Ma questo È È atomico Questo Ragazzi Questo è buonissimo Ce ne vogliono dei litri Se vi piace Il tiramisù Questo liquido È realmente Realmente Riuscito Sì È proprio quello Proprio quello Che deve essere Veramente Top Arrivati a questo punto Vi diciamo Che Per acquistarlo Quello che ci li ha venduti Ci ha detto Che Il rimeditore È Vaporoso Vaporoso Gli ho trovati Ma non ho trovato Questo Ho trovato la marca Ho trovato altri due modelli Se così possiamo chiamarli Ma non il Natural Blues Che è questo qui Quindi io spero che prima o poi Venga fuori Perché se no Non so più dove Prendere sta a fare Che è una figata E quindi Cosa dobbiamo dire adesso Che se vi piace il video Di piacere Condividerlo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Il Giacone X E di iscrivervi al gruppo Facebook La Banda del Vapore La Banda del Vapore Il nostro gruppo Facebook Bravissimo E il link lo lasciamo qua sotto Qua sotto in descrizione E quindi ci vediamo a prossima Con l'ultima svaffata che vi fa Ste Dove? No Allora Tu tira Però devi farla Proprio qui Cioè Vedi il dito qui Qui eh I wanted this I wanted to be fine I wonder why I cannot just sit for a while I really wanna see What it looks like To have a moment I knew that I would be mine When the windows I will close Like a picture Of the time